e riviusi a smr ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare i puberini, i bustel, i mini pistols dai dai che andiamo subito a mangiarli oddio guardate quanto sono belli ma sono proprio carini sono caldi ragazzi perché li ho scaldati sono buoni caldi sono bellissimi sono super caldi guardate quanto carini sono sono stupendi ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì buon appetito a tutti e buon assaggio ecco lì 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 Sì, sì, sì. Sì. Il nostro corso gratuito è molto bello! Sì. bellissima e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì. Grazie per la visione! C'è un po' molto buono. C'è un po' molto buono. Sì! bene ragazzi vi ringrazio a tutti di aver visto questo video e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao ciao